Durante la prima sessione di lavori di novembre del Consiglio Provinciale, il Presidente della provincia Arno Compaccio era riferito della gestione della pandemia da Covid-19. Altissimi erano i livelli di positività ai test effettuati e si avvicinava a una soglia critica nonostante la disponibilità di un massimo di 100 posti in terapia intensiva. Con l'assessore alla sanità Thomas Wiedmann, il Presidente ha annunciato l'ordinanza che imponeva da sabato 14 una drastica riduzione dei contatti sociali per evitare il crollo del sistema sanitario ed una strategia di test volontari e tappeto per arrivare al 67% della popolazione. Apprezzando i test, l'opposizione ha però ipotizzato la cune nella preparazione alla seconda ondata, ha chiesto di garantire assistenza all'infanzia durante la chiusura delle scuole per una settimana, ristori per le attività produttive in lockdown per 15 giorni, una migliore comunicazione e attenzione alle famiglie separate dal confine del Brennero. Il Plenum ha quindi approvato il bilancio di previsione 2021 del Consiglio per un volume di 14 milioni e 900 mila euro e rispinto alle proposte del Team K per un assegno corona per i figli ed un'anagrafe vaccinale, della City Roller Freiheit per recedere il contratto con la ditta Tundo per il trasporto di disabili e alunni, di Enzian per installare sui mezzi del trasporto di persone filtri antivirus e dei Freiheitlichen per sostegno ad aziende e famiglie. Sospese la proposta di Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia di una maggiore dotazione organica alla scuola italiana e quella del Gruppo Verde per un servizio di nolleggio di dispositivi per la didattica a distanza. Respinto a disegno di legge del Gruppo Verde per la diffusione dell'agricoltura biologica sono invece stati approvati due disegni di legge della SVP. Il primo mirava a semplificare la normativa sui controlli agli impianti di irrigazione esentando quelli più piccoli, criticato del Gruppo Verde ricordando la tragedia dell'incidente ferroviario della Val Venosta e non sostenuta dall'assessore all'ambiente Giuliano Vettorato è stato difeso dal primo firmatario Manfred Vallazza secondo cui non si riduceva la sicurezza ma la burocrazia. Il secondo disegno di legge primo firmatario Helmut Renzler interveniva sul calcolo delle pensioni di invalidità. Da ora in poi sarà considerato il reddito dell'anno in cui si presenta la domanda escludendo entrate a tassazione separata come il trattamento di fine rapporto. Alex Ploner del Team K ha lamentato la bocciatura di una sua analoga proposta.